Possiamo dire una cosa, chi parla molto spesso di cinema woke, molto spesso è una persona ignorante, e ne parleremo. Ciao a tutti, sono Marta Suvi e benvenuti in un nuovo video. Benvenuti in un nuovo video in cui parleremo di un commento che nasce come spunto per poter parlare di un argomento molto interessante, secondo me. Ovvero sfatare un po' di menti sul cinema, tra cui il cinema neorealista. Quante volte avete sentito parlare di cinema neorealista? Quanto effettivamente sapete cosa è il cinema neorealista nel concreto? Il cinema verità, proprio qui è il falso mito, utilizzando un commento per parlare di cinema. Io sinceramente adoro sfatare i miti sull'arte, perché è bello avere la concezione dell'arte come qualcosa che nasce dal nulla, nasce da grandi visioni, eccetera, eccetera. A volte lo è, ma a volte l'arte è anche un boh, è capitato per caso, che botta di fortuna, ecco. Oppure semplicemente non c'abbiamo i sorti e abbiamo optato per questa opzione. Quindi se siete curiosi di scoprire qualcosa in più sul cinema neorealista, questo è il video perfetto per voi. Ma quale film? Ma magari. No, mai avute ambizioni di diventare regista? Perché altrimenti ogni volta mi arriva il commento tipo Perché hai scelto di diventare una critica? Ciao, ho una carriera da attrice fallita, da regista fallita. No, proprio una di quelle proprie persone tristi che ha proprio detto No, meno bene perché devo fare la regista, non so creativa, voglio fare la critica. Sto proprio per parlare di questa cosa perché secondo me ha tanti spunti interessanti, nonostante che il commento non lo sia. Ma prima di iniziare, se vuoi di supportare il mio canale, like, commento, condividere questo video se secondo voi ha degli spunti interessanti, può sfatare qualche mito. Oppure ancora seguitemi su Instagram e TikTok, Barbixanx. Su TikTok vi parlo un sacco di cinema perché vi posso mettere foto, roba così. E soprattutto YouTube a me blocca un sacco di shorts per quanto riguarda tante cose. Cioè, ma addirittura ha bloccato uno short dove c'erano le foto di Timothée Chalamet vestito da Bob Dylan. Capisco che fosse offensiva la cosa, eh, lo capisco. Sono veramente fan di Bob Dylan, quindi capisco e pure io sono mezza scandalizzata questa roba. Però addirittura ha bloccato a Merrill per una foto di Timothée Chalamet vestito da Anastasia, mi pare un po' troppo. Questo è un altro discorso. La maglietta che indosso, l'ho modificata io, eh, di Pampling. Con il codice sghicio su Pampling, voi ottenete un paio di calze nuaggio allo stesso tempo su Serre del mio canale. Perché? Perché ha un codice affiliato. Quindi, fate utilizzare il codice sghicio a mamma, papà, a zie, se c'è a vederci guagua, se lui si compra le magliette, fate, dite, mi raccomando, utilizzare il codice sghicio. Grazie. Iniziamo subito con il commento. Il commento riguardava un mio video in cui vi parlavo di cinema inclusivo, film bro, eccetera, eccetera. Uno che mi ha scritto che le donne non sanno fare cinema. E c'è questo commentatore che mi ha commentato molto spesso i video, così, sempre un po'. Le donne, femminismo, wow. Io ho deciso di rispondergli in una maniera in cui sia potevamo fare informazione per sfatare i miti sul cinema, come vi dicevo, ma anche, insomma, far capire che, stellina, ma se vuoi parlare di qualcosa, vuoi criticare qualcosa, ma non sarebbe il caso, così, così, di informate, così. La butto lì, altrimenti se fanno i figuracce, magari vieni, dai, ti invitano da qualche parte e fanno i figuracce. Vabbè. Allora, il commento è questo e vi dico. Più che alla nuova bug o al neorealismo, che furono rivoluzioni di linguaggio che portarono più realtà nel cinema, quella walk sembra più che altro un fenomeno muralista. Noi leggiamo tutto e poi vi scandagliamo man mano questo commento e lo correggiamo. Come altri nella storia che tendono a mostrarci il mondo per come lo si vorrebbe, trasformando tutta l'arte in arte educativa. Non a caso, neorealismo e nuova bug nascevano dagli artisti, che imponevano le nuove regole ai produttori, mentre oggi sono i produttori che impongono le nuove regole agli artisti. Allora, questo commento, a prescindere da come voi pensate walk, qualsiasi cosa voglia dire, perché ormai qualsiasi cosa vuol di tutto e niente. Anche se voi siete contro la walk culture, eccetera, eccetera, facciamo conto che io in questo momento, sì, brutto, brutte le donne, roba così. Questo commento è sbagliato, ci sono degli errori storici e è un problema. È un problema perché la disinformazione è sbagliata quando è nel punto di vista scientifico, ma è sbagliata ugualmente anche per quanto riguarda l'arte. Certo, nessuno, non lo so, perde la vita perché ha sbagliato la definizione di un realismo, però è sbagliata, è sbagliata lo stesso. E non è tipo, io la penso così, questo non è un pensiero. Qui ci sono informazioni, nozioni storiche sbagliate e quindi correggiamole. Allora, iniziamo a fare un po' di spadare qualche mito. Nouvelle bug e neorealismo. Allora, Nouvelle bug, nuova ondata. Dall'altra parte, neorealismo, Italia, Nouvelle bug principalmente, ci sono tante Nouvelle bug, New wave, eccetera, eccetera. Viene definito così un po' tutto il cinema che è qualcosa di nuovo, detto proprio spicciolamente. Ovviamente la New wave argentina non è che c'è proprio gli stessi identici codici di quella francese. In genere, per Nouvelle bug si intende quella francese. E che si intende? Si intende un po' tutta quella di Cahiers du Cinema, una sorta di rinascita del cinema dopo la guerra. Dopo la guerra succede che il cinema europeo ha tanta attenzione. Perché? Perché è diverso, perché è nuovo, perché è de qua, de là. E semplicemente, diciamo, si piega maggiormente alle necessità sociali del momento. Per le necessità sociali vuol dire, cosa meno? Quindi ci stanno i sordi dopo la guerra, stanno tutti in mezza una strada. E due, si adatta maggiormente perché magari è quello che vuole il pubblico. Quindi che succede? Allora, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Hollywood sa che è pezza il sedere. Perché? Perché sono dei macchinoni giganteschi. Prendiamo subito anche la differenza. Qui si parlerà di produzione e roba del genere. Il nostro Claudio, però, purtroppo, Claudio, Santo Ciaro. Ma non possiamo, non puoi paragonare le due produzioni, quelle europee e quelle americane, Santo Ciaro. Vabbè. Il cinema europeo è sempre stato più un continuo delle avanguardie. Il espressionismo tedesco, eccetera, eccetera. Quindi come un prolungamento delle avanguardie artiste. Quindi c'è il cinema arte che va molto qui in Europa, eccetera. E qui in Europa non abbiamo l'arte come una concezione, è un po' brutto da dire, però fabbrica. Ci sono anche modelli economici differenti qua in Europa. Non esiste il concetto effettivamente di lobby, di tutti questi conglomerati. Il capitalismo, così come lo conosciamo, è differente. I diritti dei lavoratori sono differenti. Mentre invece negli Stati Uniti c'è un concetto totalmente differente del creare. Creare e fatturare, ecco detto così. Che coinvolge anche l'arte. Loro non hanno uno strascico storico, che quindi non è che hanno avanguardie, pittori, eccetera, eccetera. Che poi si sono evolute le accademie per diventare industria. Ma hanno semplicemente l'industria. Gli Stati Uniti nascono così. E nascono gli studios. Gli studios sono dei grandi conglomerati, diciamo, di arte e di cinema. Che applicano gli stessi concetti del profitto all'arte. E creano un cinema, che non è che è meno cinema. Perché, insomma, ha avuto un impatto enorme sulla vita di tutti noi, sulla società e tutto. Quindi non è che è meno cinema. È cinema, ma è semplicemente diverso. Un target differente, con motivazioni differenti, con possibilità differenti. Perché ovviamente c'è più sordi, più robe, cose così. Sono diversi. Già qui, a equiparare le due cose, vuol dire proprio non aver studiato manco la storia, onestamente. Perché qui non è nemmeno questione di studiare la storia del cinema. Vuol dire semplicemente studiare la storia d'Europa, dell'arte in Europa e quella americana. E fa due più due. Cioè, molte volte ci sono tanti problemi. Perché quando la gente vuole parlare di cinema, non capisce che parlare di cinema vuol dire conoscere tutto. E se tu, per esempio, non sai la storia, come sono sviluppate le avanguardie, la storia dell'arte a grandi linee, che esiste almeno, non sai, qui in Europa, e quella statunitense, già hai un problema e credi che sia tutto uguale. Ma no, l'industria cinematografica in Italia, in Europa o negli Stati Uniti è completamente diversa. Già è molto diversa da Gran Bretagna a Italia. Cioè, la Gran Bretagna è proprio quasi un ibrido sotto alcuni aspetti, per quanto riguarda gli studios. Quindi, che ne so, questi teatri di posa, eccetera, eccetera. Cioè, ha proprio una concezione in parte differente, forse per via della lingua, che c'è stato un ibrido, eccetera, eccetera. Però è molto diversa la cosa. E in paragonarli, tu puoi farlo, però devi essere cosciente. In tutto questo contesto, che vuol dire? Che Hollywood è un tipo di cinema che, a tanti soldi, deve quindi arrivare a un largo pubblico. Perché? Perché è un paese più grande. Cioè, gli spettatori possibili che tu puoi raggiungere negli Stati Uniti, da produzione statunitense, sono di più rispetto a quelli che tu puoi raggiungere in Italia. Perché? Perché c'è anche, per esempio, per l'Europa una grande barriera di lingua. Che quindi, i film italiani, sì, potevi farli arrivare con i sottotitoli e roba così, però, ovviamente, per arrivare al numero di spettatori a cui è accesso uno statunitense che fa un film per statunitensi, non è lo stesso che può avere un tedesco, un francese, eccetera, eccetera. C'è un tipo di produzione diversa, c'è un tipo di pubblico diverso, ci sono codici sociali differenti e ci sono anche meccanismi diversi. Lì funziona che, visto che è una società, visto che è capitalismo, ovviamente c'è anche nell'altra parte, ma un po' di... il cinema è sempre industria e arte allo stesso tempo. Se vuoi l'arte è bassa, fai video arte ed è un'altra cosa. Lì, quindi, chi comanda? Comanda la produzione, perché quello che conta non è fare un bel film, non è arrivare al festival, anche pensate a quanto c'è tutta la concezione qui in Europa di festival. Festival di Berlino, festival di Cannes, festival di Venezia. Negli Stati Uniti il festival è più che altro uno showcase per trovare un distributore. non tanto un premiamo il film più bello, non c'è proprio questo concetto. Gli unici premi che hanno gli Stati Uniti sono gli Oscar per premiare la produzione, perché il miglior film non premia il film più bello, premia la migliore produzione. Quindi sono gli studios che si premiano tra di loro. Quanto sono bravi gli studios, non i film. Non quanto è bravo il regista, quanto è bravo lo studios, la produzione. Quindi lì decido tutta la produzione, perché il fine ultimo è far soldi. Ho investito tot e devi ritornare tot. Poi ci sono anche delle pieghe politiche, eccetera, eccetera, come tutto negli Stati Uniti ha delle influenze politiche, le lobby, eccetera, eccetera. Tutto, anche cosa far mangiare ai ragazzini, quindi classificare la pizza come vegetale, così da poter fare gli accordi, eccetera, eccetera. Tutto ha a che fare con i soldi. In Europa, avendo, uno, non una struttura così ampia, quindi se tu hai meno pubblico puoi fare meno soldi. E quindi per forza di cose non si può dare priorità agli incassi, se tu hai un pubblico piccolo e non hai una struttura. Cioè gli Stati Uniti hanno una distribuzione, per esempio, molto ben strutturata e caratterizzata. Qui no, non ci sono i capitali, non ci sono questo, non ci sono mai stati. E quando facevi questa struttura per il cinema, scusatemi, tra la prima e la seconda guerra mondiale, dove tutto veniva bombardato, non potevi, ecco. E quindi non essendoci questa struttura, essendoci anche una concezione dell'arte differente, non hai lo stesso tessuto per vedere il cinema. E quindi che cos'è? Il cinema qui viene visto come, diciamo, estensione dell'arte. E se nell'arte l'artista è quello che decide, qui anziché decidere il produttore, che ha una figura non altrettanto che conta, perché è meno fondamentale, qui quello che decide è il regista. Quindi c'è tutta questa cosa di registi, che sono visti come artisti, mentre negli Stati Uniti non sono visti così. Detto questo, abbiamo già capito la differenza fondamentale. Quindi paragonare il cinema, l'oralista italiano, un fenomeno di un certo tipo, ha gli Stati Uniti a dire, per esempio nella parte sotto, gli artisti imponevano le regole, i produttori, e roba così, grazie al cazzo che facevi, cioè in un posto dove tu già comandi, grazie che tu puoi imporre le regole. Perché funziona che tu già hai un potere, hai maggiore potere. È come se, non lo so, pensate ai cantautori. Qui in Italia, per esempio, abbiamo una grande tradizione di cantautorato, ecco, dove quindi il cantante, lui, De André, eccetera, eccetera, lui è l'artista, lui è la visione. Negli Stati Uniti c'è il concetto di pop star, boy band, dove quindi tutto un team, anche lì un produttore musicale, costruisce intorno un'immagine per magari quella pop star, di come venderla, e roba così. Tu quindi stai imponendo, stai dando un valore per due cose che sono storiche. Non sono io l'artista mi impongo, ma sono semplicemente storiche. Sono che tu già hai quel potere da una parte e già ce l'hai dall'altra. Perché tu puoi essere Steven Spielberg e dire io voglio fare questo film, cioè gli artisti non si impongono. Martin Scorsese a me sembra che si sta impone, però non gli producono il film. E come li fatti i film se non gli danno i sordi? Perché ovviamente c'è il pro e contro. Tu, regista, hai meno poteri, ma allo stesso tempo c'hai più sordi. In Italia invece è il contrario, c'hai meno sordi, però c'hai più potere. E torneremo, ecco. In questo contesto bisogna vedere i fatti storici. Io sinceramente mi cadono un po' le braccia quando la gente non riesce a fare 2 più 2 per quanto riguarda le cose storiche. Perché i film erano in bianco e nero, tipo, che non so, dopo guerra? Perché la pellicola costavate meno e quindi costavate meno e poi se volevi fai film prendevi la pellicola in bianco e nero. Sono proprio cose pratiche che tu basta che fai due e due e li metti insieme e arrivi a capire quella situazione perché è stata così. E sono cose pratiche. Sono nozioni di cultura generale e servono da sapere per quanto riguarda il cinema. Quindi, gli Stati Uniti, che fanno? Vanno in guerra. Pure l'Europa sta in guerra, tutta distrutta, stiamo a faamamede, eccetera, eccetera. Così come il Giappone, Corea, eccetera, eccetera. Tutti stiamo con le pezze a sedere dopo la guerra. Quindi non ci sono soldi. E che vuol dire? Vuol dire che si crea proprio quel settore che vi dicevo io. Se gli Stati Uniti il loro plus era averci un sacco di soldi, adesso stanno con le pezze a sedere. Come fai il cinema che è mega baraccone se non c'hai tutti i soldi per fare un mega baraccone? Non lo puoi fare, devi fare altro. E quindi che succede? Vuol dire che quindi in questa situazione quelle persone fanno o meno film o meno granziosi, eccetera, eccetera, perché tutto quello che veniva mosso, tutto quello che era il loro plus non è più accessibile, vuol dire che si crea maggiore attenzione per altro. Ovvero, tutti i film europei in una situazione dove ci stanno meno sordi sono più facili da accedere, da avere, da guardare, più economici, più facili da far girare e magari anche rappresentano meglio quello che vuole il pubblico in quel momento. Magari vuole qualcosa che lo rappresenta, racconta il loro animo. Si vogliono rivedere perché alla fine tutto quello che vogliamo nel cinema è rivedere noi stessi. Limitante, ma è così. Cioè, da che quindi senza o con meno film hollywoodiani arriva la possibilità che si aprono le possibilità di visione per vuoti, ovvero ragazzi facoltosi, ragazzi voletterosi che fanno film che non costano un cavolo, ovvero tutta la parte di produzione europea. Nasce così la nouvelle vague e nasce così il neorealismo. Il neorealismo come nasce? Se la nouvelle vague cagliè du cinema truffo, eccetera, tutti questi critici che poi diventano registi, detta proprio così alla buona, che è proprio una wave di giovani che hanno tutte le loro idee e visione sul cinema che possono fare anche una visione personale, pensate anche in quel periodo quanto era rivoluzionare, c'erano un sacco di cose di rivoluzioni giovanile per la Francia, quindi c'erano i giovani che provolano a raccontare la loro. Dall'altra parte il neorealismo è un'altra cosa ancora, non nasce dai giovani ma nasce da uno sceneggiatore, Zavattini. Zavattini è un famosissimo sceneggiatore, colui insomma mastermind del neorealismo e dice ma sapete che cosa? Sì, ok, noi venimo da tutto il mondo artificioso statunitense ma a me piace proprio il concetto di realtà e quello che molto spesso la gente confonde è un falso storico ovvero quello che crede è che il neorealismo sia una sorta di documentario. No, il neorealismo non aveva quello come obiettivo, non è che famo la realtà, no, quella è una versione tradotta un po' così, un po' alla buona per l'uovo della strada ma in realtà se voi leggete gli scritti e le teorie di Zavattini era più una percezione di realtà ovvero darti qualcosa di vero all'interno di qualcosa che per forza di cose è artificioso. Cioè se voi avete studiato il verismo per esempio nella letteratura sapete che anche loro sono arrivati alla conclusione che una visione totalmente neutra priva di artificio era impossibile perché semplicemente il raccontare qualcosa vuol dire rinarrarla e quindi modificarla. Il neorealismo è molto conscio di questa cosa non ti dice questa è la realtà ma ti dice ti voglio dare un senso di realtà. L'idea degli attori presi dalla strada è una roba di marketing del neorealismo perché se poi andate a vedere a me non mi sembra che De Sica fosse un attore preso alla fermata dell'autobus e stava lì a farciabattino piano piano e casualmente diventa De Sica no ci sono delle piccole parti ed è una cosa di marketing è l'idea quella ha avuto molto clamore perché era la cosa concreta della verità ci sono un sacco di cose molto complicate per quanto riguarda poi questa parte del neorealismo pensate a bellissima quindi quante storie e quanti sogni ha venduto esattamente come Hollywood Hollywood pure raccontava tipo faceva i manifesti tipo vieni a Los Angeles il posto la prossima star potresti essere te poi in realtà non era così perché erano gli studios che creavano da zero dei lettori degli attrici prendevano queste attrici pensate a Mary Lou Roma pensate a tante altre le prendevano si sei bella sei carina caricatrice te porto le sistemiamo i capelli te famo i capelli come dico noi te famo i sopracciglia come dicono noi te vestimo come diciamo noi e tu sei quel personaggio poi sei nella vita sei un'altra cagnotta roba così hai un altro discorso non ce ne frega niente noi ti vogliamo vendere in questa maniera quindi tu sei così e l'idea del tu potresti essere il prossimo è la cosa che funziona funziona con il grande fratello funziona con gli youtuber funziona con i social ovvero l'idea che si in quel momento è diventato famoso lui con tiktok ma il prossimo potresti essere tu quindi vai fallo perché è la cosa che alimenta il tutto questa è anche la base del neorealismo e ha creato un sacco di problemi di gente che magari ha fatto un film è diventata famosa poi è caduta in miseria perché si era montata la testa credeva di poter entrare nel mondo del cinema nel mondo del cinema purtroppo non era accessibile a tutti nella stessa maniera era accessibile per gli attori fare la carriera degli attori i primi arrivati per strada purtroppo venivano utilizzati dal cinema venivano utilizzati dall'industria italiana esattamente come l'industria statunitense prendeva macinava tutti e poi li disputava purtroppo è così e c'è per esempio il film è bellissimo che parla proprio di questo di Anna Magnani così ossessionata da far diventare la figlia un'attrice e roba così perché avevano venduto quel sogno che poteva cambiarti la vita entrare nel cinema ma Zavattini non teorizza il neorealismo come qualcosa di realtà perché la realtà è impossibile cioè il verismo tutti sono arrivati già alla base pure Zavattini stesso dice io la realtà non te la posso da ti posso dare però la sensazione di qualcosa di vero ovvero che io ti vedo all'interno di quel film il mio obiettivo è farti arrivare un dettaglio un qualcosa che ti dà il senso di realtà ti dà il senso che tu stai vedendo qualcosa di vero un'emozione un momento eccetera eccetera e non è solamente la realtà il documentario il neorealismo pensate per esempio che c'è tutto un sottogenere che è il neorealismo magico e voi state in che senso magico? nel senso che ci stanno le cose volanti c'è per esempio il film di Zavattini Miracola a Milano dove ci stanno i bambini che nascono sotto i cavoli c'è un bambino che vola su una scopa del duomo è neorealismo quello? è neorealismo come ve l'hanno insegnato ovvero tutto stile documentario la realtà? è diverso ma è sempre un realismo perché? perché parlava di tematiche proprio complicate della società dell'epoca in una chiave però fantastica però l'obiettivo principale era quello di parlare di qualcosa di vero e darti una sensazione di realtà con codice extra qui è proprio alla base cioè come capite tutto questo discorso dire che quindi sono rivoluzioni certo ma non per quello che credi te non perché gli artisti si imponevano e poi chi erano gli artisti in questo caso? perché molto spesso quando si parla di neorealismo la gente parla di registi ma no Zavattini o conosciamo noi gli addetti ai lavori perché l'uomo della strada quando gli parli di neorealismo non te parla dei sceneggiatori eppure è quello che l'ha ideato quindi di chi è il merito? di tutti perché il cinema è un lavoro del gruppo però devi pure capire a chi dare i giusti meriti ecco e questo è un problema un problema perché se tu non sai bene di che cosa parli sminuisce anche tutto questo discorso cioè secondo me questo discorso sapere tutti questi dettagli arricchisce il discorso sul cinema e sul neorealismo non gli toglie niente non rende più profondo dire il cinema è la realtà il neorealismo è la arte non dice niente è come se io vi dico è bello è scioccante queste sono parole che sì ti danno una sensazione ti danno un'idea ma non ti dicono nel dettaglio perché quella cosa è bella perché quella cosa è diventata unica cioè queste persone se tu gli chiedi ok perché allora il neorealismo è diventato unico perché riusciva a parlare a quelle persone perché la novel bug era diversa rispetto a quello che c'era prima non te lo sanno di è questo che ti perdi perché se tu non sai perché una cosa è bella allora non riesci a percepirne la bellezza non riesci a percepirne la rivoluzione non ne sai niente ed è un peccato vabbè quindi portarono più realtà nel cinema quella walk sembra più che altro è un fenomeno moralista quella walk per qualsiasi cosa voglia dire è un fenomeno economico non può essere moralista Hollywood rimane legata ai soldi quindi tu vedrai più personaggi asiatici cinesi non perché Hollywood capisce che oh mio dio i crimini contro le persone asiatiche sono aumentate quindi ora inseriamo più attori asiatici no ci mette lì l'attore cinese perché poi lo vuole vendere in Cina e ci vuole fare un sacco di sordi Hollywood si è resa conto che non ha più idee e quindi che cosa fa prima ha preso da proprietà intellettuali poi ha preso da vecchi discorsi quindi remake spin off sequel infinite eccetera eccetera poi inizia da fare remake di scusate di fumetti remake di quest'altro remake di quell'altro e alla fine ha detto siamo a corto siamo a corto di cose il nostro prodotto non è più al pari semplicemente non riusciamo più a fare abbastanza soldi vogliamo di più e quindi che cosa fai quando tu vai a vedere qualcosa da fare vedi quello che non è stato già utilizzato e quello che non è stato già utilizzato è o un target di mercato come per esempio sono stati i fumetti i cinecomics se non lo si conto ah abbiamo fatto sempre trasposizioni di libri ma lo sai che i cinecomics potrebbero essere un'idea ora lo stanno facendo con i videogiochi a breve sicuramente sarà con altri tipi tipo i giochi da tavolo potrebbe essere o addirittura i giocattoli ora ci sarà secondo me tutta una wave di realizzazione di film di giocattoli target che non sono stati sfruttati target che costano meno dove tu puoi provare e se sei il prima ad arrivarci fai un sacco di soldi guardate Barbie prima ad arrivare su un target femminile e di giocattoli e ha fatto un sacco di soldi il film Hollywood guarda quello poi che ecco tu dici vabbè secondo me è una merda quel film non gli aveva niente a Hollywood a Warner Bros mi frega quanto ha incassato Barbie è andato bene? sì Marvel quanto ha incassato l'ultimo film? Toth bene ok ci va bene quando è che Marvel ha iniziato a fare un passo indietro? quando ha fatto Black Panther? no l'ha fatto quando i film sono iniziati andando male quindi non è il fenomeno woke è un fenomeno moralista è un fenomeno economico di Hollywood che finge di avere a cuore determinati target semplicemente perché ha detto noi abbiamo sempre parlato all'uomo maschio bianco ma è etero cis però lui c'è un sacco di prodotti per lui e quindi dobbiamo competere non con tre film ma con cento se io faccio un film per donne il target l'ha con quanti prodotti simili devo competere? magari uno solo in quell'anno se io faccio un film per un target queer di ragazzi che si amano quanti competitor posso avere in quel mese che escono con una storia d'amore tra due ragazzi probabilmente zero quindi ce ne guadagno perché sono l'unico e vado a prendere un target super indirizzato che non è soddisfatto da niente quindi qui c'è l'altro discorso Hollywood sa questa cosa sa che sono meno soddisfatti con i tipi di target e quindi va a risparmio fa film che costano meno molto spesso o film di pessima qualità perché dice tanto quel target che ne so storia queer gli fanno pochi film e se io io do un film che è mediocre io non devo competere non ho il rischio che in quell'anno esce un film migliore del mio è probabile che esce l'unico film così che è il mio quindi anche una roba di bassa qualità può darsi che gli va bene semplicemente perché non c'è niente di meglio contro cui concorrere così che funziona il non capire è stupido cioè questo commento purtroppo è stupido e ignorante e io qui non vi sto dicendo viva l'inclusione l'inclusione deve essere messa eccetera eccetera io vi sto parlando semplicemente di soldi una maniera una maniera più proprio gretta possibile io non vi sto dicendo a livello morale perché determinate cose sono giuste e dobbiamo cambiare determinate cose vi sto dicendo il motivo per cui lo fa Hollywood e il motivo per cui lo fa Hollywood non è certo il buon cuore ma sono i soldi è il capitalismo per mostrarci il mondo come lo si vorrebbe anche qui no Hollywood non ti mostra qualcosa come lo vorresti cioè forse tutto il cinema ti mostra un mondo come lo vorresti non vorresti vivere non lo so avere i poteri del supereroe preferito forse si cioè trasformando tutta l'arte in arte educativa diciamo anche un'altra cosa l'arte è sempre stata strumentale per un secondo fine cioè il motivo per cui c'è la cappella sistina non è perché oh mio dio ma oggi mi va a poco di fare tutta una cappella sistina con gli angioletti e tutta la bibbia no c'era l'obiettivo di dire io voglio mandare questo messaggio io ho i soldi tu fai quello questo e inevitabilmente l'arte ha plasmato diciamo il messaggio che c'era proprio per questo l'arte molto spesso è stata volontariamente o meno è stata anche propagandistica l'arte di propaganda secondo voi non è arte però secondo voi la televisione non è stata diciamo utilizzata per mandare dei messaggi durante questi anni cioè pensate a Mediaset come ha plasmato l'idea delle tv di Berlusconi tutto un concetto di vita differente rispetto a quello che era prima meglio o peggio decidete voi io nemmeno qua mi esprimo così più neutro possibile questo video però tanto sapete come la penso è inevitabile perché se tu fai qualcosa che arriva a un largo pubblico inevitabilmente tu lo plasmerai che sia volontario quindi propaganda oppure motivi economici eccetera eccetera o che sia involontario cioè tutti i film di adesso a livello americano statunitense hanno plasmato molto la nostra idea cioè pensate quanto la mia generazione millennial siano in fissa con le scuole con gli armadietti una roba che tu dici sì sti cazzi quante volte siamo andati che ne so a Times Square semplicemente per dire oh mio dio esattamente come nel film X plasma i sogni ecco il cinema e tutta l'arte è così è inevitabile e dice non a caso il neorealismo nasce e il novel bug nascevano dagli artisti che imponevano le loro regole ai produttori no no semplicemente no perché avevano ruoli diversi avevano peso differenti come vi ho detto cioè erano situazioni dove tu un film della novel bug lo puoi anche autoprodurre un musical in teatro di posa stile un americano o Singin' and Duran tu non lo puoi autoprodurre da regista ti serve un impatto proprio un impianto gigantesco di tante figure che tu non puoi fare da solo e hai bisogno dei soldi e non puoi imporlo non è che puoi andare dal produttore io voglio fare questo il produttore dice per me io non ce li faccio i soldi che sto a investire quindi no perché quella è la logica non è una logica da mecenate quella del produttore negli Stati Uniti in Italia e in Europa forse leggermente di più ma lì no quindi anche lì loro si imponevano qui no tu stai paragonando cose diverse santo cialo e questa è proprio un'ignoranza che io dico ma dopo la quinta superiore com'è possibile che una persona non sappia queste cose com'è possibile che tu non sappia che il cinema è un'estensione dell'arte qui in Europa delle avanguardie nasce così e lì è invece una sorta nasce dalle fiere il cinema come intrattenimento come innovazione e poi tentano di fare anche cose mezze eccessive proprio sensazionalistiche come fai a non sapere questa roba se tu non sai questa cosa è logico e tu non sai analizzare i dati e quindi sei in balia dell'ideologia e quindi ti dicono oh mio dio c'è la cultura woke sta rovinando il cinema e tu ci credi perché non c'è nessuna nessuno strumento per analizzare arriva lo youtuber che ti dice no adesso tutti woke tutte donne eccetera eccetera tu ci credi perché sei ignorante e l'ignoranza purtroppo ti rende debole l'unico modo per salvare questa cosa è quando ricevi un messaggio visto che c'è internet caro Claudio c'è internet per scrivere il suo commentino ma utilizzalo pure per leggere la pagina wikipedia della nouvelle bug del neorealismo leggi un po' il cinema nel dopoguerra come era messo ti fai la tua letturina e poi dopo ti fai due domande molto spesso il cinema ha dei cambiamenti che non sono dovuti a cose che arrivano dall'alto ma sono cose fattuali non ci sanno i sordi tipo c'è la guerra come mai hai fatto questa scelta come mai un po' come quelli ma come mai Clerks è in bianco e nero nonostante insomma all'epoca non erano così diffusi i film in bianco e nero e Kevin Smith ti dice costava meno la pellicola in bianco e nero non c'avevamo i sordi a volte noi vogliamo avere una sovralettura per quanto riguarda queste cose a volte molte cose che ci sono all'interno dei film sono involontarie che assumono un discorso a livello sociale ovvero quando si fa questa riflessione ovvero l'opera non più ha un valore perché l'artista ti dice così ma quando viene messa nella società la società gli dà una lettura molte volte l'intento può essere uno il motivo può essere uno e il risultato può essere un altro cioè può darsi che quel bianco e nero può avere un valore ma molto spesso la motivazione per cui il regista chi l'ha fatto è così è per semplicemente una questione pratica che quindi ha limitato o gli ha dato delle possibilità in più e qui anche qua tutta questa roba sul walk di etrologie tipo arte artista che non si impone eccetera eccetera no film che ormai devono incassare miliardi devono avere situazioni dove possono incassare miliardi e molto spesso per incassare tanti soldi e visto che a tutti piace rivedersi sullo schermo vuol dire che tu devi inserire tutti e questa è in genere la chiave per fare più soldi però anche qui non vuol dire che farlo assicurano un risultato riuscire a farlo bene è difficile cioè non è che spingere rec vuol dire fumble film no inserire un personaggio nero non vuol dire che le persone nere si è tanto rappresentate è un discorso più complicato però insomma l'importante è sempre avere un po' di conoscenza per quanto riguarda il cinema e parlarne approfondendo cioè tutto questa roba io vi ho parlato di storia del cinema però molte di queste cose erano deducibili semplicemente se avete letto la storia studiate un po' la storia in generale rimanete un po' nell'approfondire la cultura molto spesso io vi parlo di come non si può analizzare un film se non si conosce quella cultura cioè se tu vuoi analizzare che ne so Miyazaki tu devi conoscere un po' la cultura giapponese io molto spesso non l'ho fatto proprio per questo non mi sento all'altezza di conoscere abbastanza la cultura giapponese per capire effettivamente determinate cose la cultura coreana cioè se tu non sai che ne so com'è la situazione della donna delle persone non etero in Corea è normale che tu vedi un film magari credi lo paragoni alla tua società magari era diverso magari era molto peggio magari c'erano delle differenze e tu non riesci a capire queste cose se non sai com'erano i codici lì in quel contesto com'era la storia com'era a livello sociale in quel periodo è importante sapere queste cose se si vuole parlare del cinema poi se vi vedete tranquilli non è che non sapendo sta roba sul generalismo oh mio dio non riuscite a campare certo che a campare è benissimo pure senza però se volete sprologo sul cinema come il caro Claudio mi ha rotto due coglioni così con 50 commenti le donne politicamente corretto su Hopnheimer mi hai sbregato le palle ti ho fatto un video intero per dirti questo è semplicemente un esempio dei tanti commenti che purtroppo sei ignorante sul cinema e c'hai da imparata mi dispiace poi non essere d'accordo però mi dispiace è un tuo problema perché vuol dire che non ne sei abbastanza e dovresti ascoltare anziché parlare quindi io potrei fare questi discorsi lunghissimi per tutti i commenti che ricevo sotto i video di un certo tipo in un certo tempo e credo che non sempre siamo stimolanti perché sono troppo lezioni a volte troppo tecniche e cose così però questo secondo me può essere utile per capire un po' il contesto e può essere utile soprattutto a voi anche per capire quando leggete una recensione di qualità un'analisi di qualità per quanto riguarda il cinema o guardate un video o qualcosa per quanto riguarda il cinema sia di qualità o meno quella persona effettivamente ha un minimo di nozioni sul contesto storico sociale in cui è inserito quel film perché se tu già non fai il W2 perché il neorealismo è così in Italia se non fai il W2 che c'è la guerra è un po' difficile capire e non è semplicemente voglia di stare all'aria aperta non ci stanno i sorti e molto spesso tutto ricade lì per quanto riguarda il cinema visto che è un'arte estremamente costosa ma questo bomboli di casa era tutto spero che sia stato un video interessante per quanto riguarda la parte cinematografica di avervi fatto scoprire qualcosa in più e di avervi dato delle nozioni molto stimolanti ecco a me piace molto il cinema piace molto analizzarlo piace molto studiarlo e quindi per questo ho deciso di parlarne altrimenti mi sarei stata zitta non mi sarei improvvisata a parlare di roba che non so ecco questo era tutto spero di esservi stato aiuto se siete rimasti qui lasciatemi qui sotto un emoji a tema Chuck oppure come vi pare scrivetemi Chuck grazie ancora e noi ci vediamo al prossimo video ciao